Sono sempre più le istituzioni e territori che guardano il videogioco come mezzo per raggiungere nuovi pubblici. E quindi diventa facile veicolare un messaggio, che sia culturale, che sia turistico, andando a intercettare i giovani nel loro linguaggio e nel loro territorio. Allora, un motivo per restare è sicuramente per cercare di dare una possibilità. Un motivo per andare è forse per dare una possibilità anche all'estero, no? O anche a se stessi. Io credo che in Italia ci sia veramente tanto bisogno, dunque anche tantissime opportunità per persone che hanno spirito critico e che capiscono che non bisogna mai smettere di imparare. Grazie a tutti.